Plotino Plotino, trapassato nel 270 d.C., filosofo greco, uno dei più importanti filosofi dell'antichità, erede di Platone e padre del neoplatonismo, a volte identificato in toto col suo pensiero in Enneadi, dice Noi diciamo di Lui è così. Questo sarebbe delimitarlo e dire che è tal cosa. Chi lo ha visto non può dire di Lui è così, e neppure non è così. Questo significherebbe dire che esso è qualcuna delle cose di cui si dice che sono così. Ma quando si è contemplata la sua indeterminazione, si possono enumerare tutte le cose che sono dopo di Lui e dire che esso non è alcuna di quelle. Commento L'assoluto non è alcuna cosa perché le è tutte. È l'estrema sintesi a cui nel corso della storia sono giunte le vette dell'intelligenza umana. Il è un'estrema sintesi a cui si può iniziare. Quindi la storia la storia è un'estrema sintesi a cui nel corso della storia si può iniziare. Quindi